La tematica sul Policlinico tiene sempre banco. Dopo la proposta del consigliere comunale Annalisa Petitto di convocare un consiglio comunale straordinario sul tema, stamani arriva anche la proposta del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, di convocazione urgente del consiglio comunale monotematico sul Policlinico Universitario Siciliano Aperto a Tutti. Abbiamo ascoltato il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Marina Mancuso. Abbiamo presentato stamattina una richiesta di convocazione urgente di un consiglio comunale monotematico aperto, proprio avendo ad oggetto la tematica del nuovo Policlinico Universitario Siciliano. È infatti notizia dei giorni scorsi che la regione siciliana abbia deliberato proprio l'istituzione del quarto Policlinico Siciliano. E allora ci sembra doveroso ma anche urgente che ci sia un confronto tra la comunità nissena e tutte le istituzioni politiche che possono in qualche modo essere chiamate a pronunciarsi su questa importante tematica. Ecco che quindi abbiamo pensato di proporre all'interno della richiesta l'invito per il presidente della regione Sicilia, per l'assessore regionale alla sanità, l'assessore regionale all'istruzione e alla formazione professionale e anche il dottore Caltagirone nella qualità di commissario straordinario dell'ASPE di Caltanissetta, tutta la deputazione regionale e nazionale della nostra provincia ed anche il presidente della commissione regionale sanità, naturalmente oltre al sindaco e alla nostra giunta comunale. In questa maniera speriamo di sollevare a gran voce l'esigenza che questo Policlinico sorga nel territorio, in particolare nella città di Caltanissetta, la quale è sede di un DEA di secondo livello, condizione imprescindibile per poter effettivamente ospitare un Policlinico universitario. Ci sono poi tante altre ragioni di cui si parlerà chiaramente nel corso del Consiglio, che legittimano questa richiesta.